Oggi è un giorno speciale perché è stato raggiunto un risultato veramente speciale. Oggi l'AMIA ha chiuso per l'undicesima volta la massima qualifica della compagnia, il Presidente Millionaire, e oggi è la numero uno della compagnia. Questo è il risultato di un grandissimo lavoro e di una crescita costante. Un lavoro fatto tutti i giorni con grandi sacrifici, con grande abnegazione e con grande fiducia per la compagnia e per il modello di business della compagnia. L'AMIA, io ti faccio i migliori complimenti a nome della compagnia, a nome del Presidente, del Board, di tutto lo staff e di tutto il management della compagnia. E da questo momento noi siamo sicuri che nessun obiettivo è irraggiungibile per te e che siamo solo all'inizio di questa storia, che ci saranno ancora risultati grandissimi. Complimenti e un grande saluto. L'AMIA, io ti faccio i migliori complimenti a tutti i giorni con la compagnia. Grazie.